Il consigliere di minoranza del comune di Agropoli, Agostino Abate, in una lettera indirizzata al sindaco, Adamo Coppola, chiarisce che le amministrazioni comunali non possono elargire contribuzioni economiche a favore degli imprenditori privati locali, ma possono, previa adeguata e documentata valutazione obiettiva, aiutare gli stessi con provvedimenti concessori adeguati e proporzionati alle caratteristiche del proprio territorio. Per le notorie caratteristiche proprie delle spiagge del nostro territorio comunale, scrive Abate, la eventuale concessione di ulteriori spazi demaniali, necessari per risollevare l'economia degli imprenditori privati locali che operano nel settore dei lidi marittimi, costituirebbe però una grave compromissione dell'utilità sociale ed arrecherebbero danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana di tutti quei cittadini che non possono permettersi di pagare l'uso e il godimento della spiaggia e ciò oltretutto sarebbe in netto contrasto con l'articolo 41 della nostra Costituzione. Risulta così evidente che per mantenere alta la sicurezza, la libertà e la dignità umana di tanti cittadini non si devono adottare ampliamenti delle concessioni demaniali, ma nel contempo questi imprenditori privati locali, che sono comunque vittime economiche di un necessario distanziamento sociale, devono essere aiutati dallo Stato e dalle regioni con provvedimenti risarcitori immediati. Quindi, conclude Abate, gentilissimo sindaco si adoperi con urgenza presso la regione per far sì che i nostri imprenditori locali possano ritrovare il giusto ed equilibrato ristoro economico settoriale.